Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come collegare il piano di cottura e induzione all'impianto elettrico. Ricordatevi di staccare la spina per lavorare in sicurezza. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Prima però devo spiegarvi che i piani di cottura e induzione, a differenza dei piani di cottura classici, hanno un assorbimento maggiore. Come potete vedere qui abbiamo scritto 7,2 kW, quindi questo è l'assorbimento massimo che può avere questo piano di cottura. Qui potete fare due cose. Se avete intenzione di utilizzare il piano di cottura con la massima potenza, allora dovete fare un collegamento diretto senza utilizzare nessuna presa elettrica. Se invece avete intenzione di ridurre la potenza, cioè di limitarla, e questo si fa dalle impostazioni del piano di cottura, e non tutti i piani di cottura e induzione hanno questa possibilità, il mio ad esempio ce l'ha, ho già fatto un video che parla di questo, e ho ridotto la potenza a 3 kW. E quindi in questo caso qui, siccome il piano di cottura non assorbirà mai 7,2 kW, posso utilizzare una spina sciuco. Comunque oggi vi spiegherò in entrambi i casi come va collegato il piano di cottura in maniera corretta. Allora, mettiamo caso che volete collegare il piano di cottura con una prolunga, perché avete la presa elettrica che è molto lontana, e quindi vi serve una prolunga, e volete utilizzare il piano di cottura alla massima potenza. Quindi dobbiamo procurarci un cavo di prolunga, che deve essere dello stesso spessore, quindi stesso diametro, quindi la stessa portata, diciamo, del cavo di alimentazione del piano di cottura. Quindi, questo è il cavo di alimentazione del piano di cottura, e questo è il cavo di prolunga. Vedete? Se si riesce a capire, hanno lo stesso spessore. Ecco, piuttosto il cavo di prolunga, prendetelo più spesso, ma non più sottile. Altrimenti questo potrebbe creare dei problemi. Per quanto riguarda il cavo di alimentazione che arriva dal piano di cottura e induzione, i collegamenti vanno fatti così. Allora, questi due, quindi azzurro e grigio, vanno collegati insieme. Adesso per il momento li metto così. E nero e marrone anche vanno collegati insieme. Adesso li accoppiamo così momentaneamente. E il filo di terra va lasciato da solo. Comunque, come potete vedere, di solito vicino al cavo mettono un'illustrazione che già vi spiega, appunto, vedete? Marrone e nero vanno messi insieme, azzurro e grigio collegati insieme, e filo di terra. Ok? E questo momentaneamente lo mettiamo da parte. Qui adesso dobbiamo spellare questo cavo. Se non avete della strumentazione giusta, potete utilizzare una forbicina e una forbice più grande. Allora, la forbicina la usiamo per iniziare a spellare la guaina. In questo modo. Usiamo la forbicina perché siamo più precisi, così da evitare di tagliare e rovinare i cavi che sono all'interno. A questo punto tiriamo così e questo possiamo tagliarlo. Adesso dobbiamo spellare questi e possiamo utilizzare anche una forbice un po' più grande. Ripeto, adesso usando una strumentazione non idonea per far sì che se qualcuno è a casa e vuole farlo non è costretto a comprare dell'attrezzatura apposta per fare magari soltanto questa installazione qui. Perché un conto uno lo fa come lavoro. Un conto è uno che lo fa in maniera improvvisata e non vuole spendere soldi in attrezzatura. E' molto importante quando si spellano i fili di non tagliare i fili di rame altrimenti riducete la sezione del filo stesso. Ovvio, se si taglia soltanto qualche filo non è importante però quello che è importante è non tagliarne troppi cioè di non ridurlo così altrimenti avete ridotto lo spessore del filo e non va bene. Adesso vi procurate questi che se non sapete dove comprarli vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video e uniamo i fili tra loro. Allora, quindi questo qui che è della prolunga lo colleghiamo insieme a quello azzurro e grigio del cavo di alimentazione del piano di cottura quindi li mettiamo tutti e tre così e li intrecciamo. Stessa cosa la facciamo con questi qua quindi quello marrone della prolunga va insieme a quello nero e marrone del piano di cottura. Quindi li mettiamo tutti e tre insieme e io faccio un po' di fatica perché ho la videocamera davanti e devo guardare sia la videocamera che i fili comunque ok e questi due non meno importanti anche vanno collegati insieme ok bene adesso usiamo questi qua che se siete più comodi potete anche usarli separatamente quindi svitiamo la vite che c'è qui internamente così da poter far passare i fili la svitiamo finché non va a filo vedete quindi inseriamo il cavo nel primo morsetto e stringiamo ok controlliamo tirando ogni singolo filo per verificare che sia tutto a posto ok il primo è andato la stessa cosa la facciamo con gli altri inseriamo i cavi nel morsetto e stringiamo e anche qui verifichiamo ogni singolo cavo che sia attaccato saldamente per finire colleghiamo gli ultimi due che sono quelli di terra anche qui utilizzando il morsetto e controlliamo ok l'allacciamento è stato fatto per quanto riguarda i piani di cottura a induzione quando lavorano al massimo della loro potenza quindi senza limitazione sappiate che se per la vostra abitazione avete un abbonamento base dovreste avere una portata massima di 3 kilowatt che non vi dà la possibilità di sfruttare appieno il piano di cottura a induzione quindi quel caso lì potete mettere tranquillamente una spina sciuco comunque adesso vediamo insieme come collegarla allora rimaniamo sempre con gli stessi fili accoppiati io utilizzo questa perché mi trovo bene è praticamente la migliore spin asciuco che c'è in commercio quindi vi consiglio di comprare questa qui comunque se vi interessa vi lascio il link nella descrizione del video per comprarla prima cosa da fare è quella di inserire tutti i cavi qui dentro allora il filo di terra va al centro le altre due coppie di fili potete metterle come vi pare non non hanno un senso non hanno una posizione precisa quindi dopo aver svitato bene tutte e tre le viti accorciamo prima i fili a parte in rame sarete un tronchesino meglio e lo inseriamo qui dentro a questo punto stringiamo e lo inseriamo anche questo qui stringiamo ok non ci resta che collegare il filo di terra stringiamo a questo punto posizioniamo il cavo così e lo blocchiamo con il suo morsetto tiriamo su il corpo dell'asciugo e lo inseriamo facendo attenzione e mettono nella posizione giusta quindi se da questa parte c'è il foro della vite dobbiamo metterlo in questo modo qui a questo punto inseriamo la vite qui e la abitiamo ok se invece la vostra intenzione è quella di collegare il cavo di alimentazione del piano di cottura induzione direttamente a una presa elettrica allora dovete operare in questo modo qui questa è una presa elettrica quindi prendete un cacciavite a taglio e inserite la punta qui sul fianco fate leva poi con un cacciavite a croce svitate queste viti come potete vedere qui abbiamo i tre cavi sono gli stessi utilizzati nella prolunga quindi dovete semplicemente utilizzate la procedura della prolunga e anziché collegare il cavo di alimentazione alla prolunga la collegate qua con i morsetti